Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Eeeeeeasy! LOL Il 6% si è vinto la bet Signori Io vado a rilassarmi un pochettino sugo da fuori Chi ha piacere a rimanere a guardare la live è il benvenuto Panna, zucchine e pancetta, buono, si Però mi è entrato l'alcol nell'occhio, però la pasta non deve mancare mai Scusate Forca puttana Sembra un po' eccessiva questa soddisfazione del cibo No 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 ma scusi ma perché io vorrei che ce ne dovrebbe vedere la mia live ciao zappa grazie degli undici non è facile signori gravissimo gesto bruttissimo la madre allora io ho una difficoltà non indifferente allora sbrang 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 non posso vorrei ma non porno signore inferno merda puttana ma con no ok sto capendo cose grazie cascioni grazie dei due ciao bello se fai in aria porco farai no no vinco io vinco io let's fucking go però come on però come on 5 chilometri easy faccio spavere tutto sono riuscito veramente a passare in mezzo alle due paniche di benzina senza farlo esplodere ok ok io non c'è ma ok andiamo no 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 cosa io non sto facendo una dove è andata ragazzi mi inculano forse no forse no ragazzi io ce la metto tutta ragazzi io ce la metto è impossibile non potevo fermarmi qua non potevo non potevo è spawnato un altro team quella era la trio là dietro ciao che diego gira quindi è meglio togliersele che così non ci pensiamo più e ci regalano dei picconi delle robe un po strane power dopo questa io ti darei un po di time out questa era brutta forte power andiamo merda era veramente pesante posso passare da qua 5 km su un veicolo cromato certo già mag saluto simone il pampu e nikita ciao ragazzi devo fare benzina a questo veicolo immediatamente non li vedo si lo vedo lo vedo morto 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 c'è un altro 38 38 38 38 morto c'era un altro sopra in mente ragazzi questo dmr non ha senso merda eh questo si prende la mvp andiamo 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 sto andando sto andando sto ragionando dove arrivano loro no non lo so fare il mio amico no no ti ha lanciato un cazzo in faccia qui ilota in espulsione porco diazzo ho impasato no son vivo ma non ho più il meca preliva pesce pesce scudo o jellyfish quindi ho le meduse quindi queste sono le sfide della settimana 3 e della settimana 4 buongiorno ciao bello buongiorno buongiorno e quindi per adesso non abbiamo dai non spari chiù eh ha sparato no no ok buongiorno buongiorno